Loro dicono, l'articolo 70 è troppo lungo, 438 parole. Per fortuna, con la riforma, Camera e Senato avranno competenze diverse. L'articolo 70 le definisce con chiarezza e precisione. In Germania sono ben sei, dico sei, non uno, gli articoli dedicati a questo. E udite udite, negli Stati Uniti le parole sono 2317. Come la mettiamo? Basta bufale, basta un sì.